La fine del grande fratello Vip, come molti sospettavano, non ha portato ad un concretizzarsi delle speranze dei fan dell'ashta di Eru. La storia tra Jessica Selassie e Baru sembra destinata a non evolversi. Tant'è che si è cominciato a vociferare che lui si è innamorato di un'altra persona. Una rivelazione che ha causato un po' di caos in giro per il web. Ma cosa sarà mai accaduto concretamente? Alcuni fan, infatti, hanno cominciato a pattugliare i profili social di Baru, notando il reciproco follow e lo scambio di like con l'influencer Valeria Ninni. Una bionda mozzafiato che conta su più di 450.000 follower su Instagram. Fin qui non ci sarebbe alcun problema, se non fosse che qualcuno ha esagerato, al punto da arrivare ad inviarle dei messaggi assurdi. Valeria, infatti, ha fatto sapere di aver ricevuto minacce di morte, insulti, diffamazioni e messaggi privati. Il tutto a causa della vostra lobotomizzazione, a causa di un programma TV e di persone che non appartengono alla mia vita. Tutto verrà reso pubblico ed ogni nome e cognome. E insulto è stato già passato al mio legale e al mio agente. Ha aggiunto poi, annunciando azioni legali nei confronti di chi ha agito in questo modo.